Quale tipo di servizio viene richiesto ai ragazzi? Il Centro Giovane Casette Rosse offre attività educative di assistenza ai minori, quindi la parte più di sostegno allo studio, aggregativa, giochi, però il Centro Giovane che anche si sta trasformando in un centro di quartiere, quindi in rete anche con le associazioni del territorio, che offre anche attività diverse, quali per esempio quelle legate all'orientamento, lo sportello in forma giovani, ma anche attività di tipo musicale, come la gestione della sala prove e la radio web, che è un progetto che sta funzionando da diversi anni con molti risultati. Quale età hanno i ragazzi che frequentano il Centro Giovane? Il Centro è frequentato da tutte le età, da 0 a 99 anni, in particolare dalla fascia delle medie, che viene per fare delle attività aggregative e anche di assistenza allo studio, e poi da una parte proprio di giovani, quindi dai 14 all'età dell'università, in cui possono venire a fare esperienze di laboratorio, ma anche sempre legate all'orientamento, quindi alternanza scuola-lavoro. In che cosa possono crescere i ragazzi che fanno il servizio civile? Partecipare al servizio civile vuol dire aiutare gli altri, avvicinarsi al mondo del lavoro, richiesta molta dinamicità e anche la voglia di mettersi in gioco. Porteranno a casa sicuramente l'esperienza di mettersi in relazione con le altre persone, ma non solo, anche con le istituzioni, di spaziare, di cercare risorse, spaziare nel territorio, quindi anche creare eventi, verrà anche fornita una formazione che servirà comunque loro anche per il prossimo futuro lavoro.